La Salerno-Reggio Calabria aprirà il 22 dicembre, così mi hanno promesso le aziende, mi hanno assicurato che sarà così, tenetevi forte. Parola di Matteo Renzi, il Premier ha dato l'annuncio ieri in una grimitissima sala stampa, incontenibile la reazione della stampa estera presente, risate a non finire. Al punto che il Presidente del Consiglio è stato costretto a buttarla sull'ironia, quelli che hanno rumoreggiato saranno costretti a fare un pezzo di strada, guido io, così, anche se la strada sarà perfetta, vi sentirete male lo stesso, ha replicato Renzi. A conferma di quanto poco prima aveva fatto sapere il Premier, è arrivato nella serata di ieri anche un comunicato dell'ANAS, nel quale si legge che il Presidente Armani conta di consegnare agli italiani i circa 450 chilometri della Salerno-Reggio Calabria, con standard autostradali, completa di almeno quattro corsie e senza cantieri permanenti, entro la fine di quest'anno, anticipando di un anno e mezzo i termini contrattuali, tenuto conto dell'impegno richiesto in tal senso dal Governo. I lavori sull'ultimo tratto tra Laino, Borgo e Campotenense, proprio al confine tra Calabria e Basilicata, in corrispondenza del viadotto Italia, precisa la società, sono in fase di completamento e saranno completati entro dicembre. A quel punto l'autostrada sarà completata, proseguiranno solo le attività di manutenzione straordinaria, come per qualsiasi altra infrastruttura autostradale a pedaggio e non. E proprio ieri l'ANAS ha pubblicato un report sui lavori aggiornati a febbraio 2016. In totale sono 355 chilometri realizzati, di cui 207 in Calabria. All'appello mancherebbero soltanto 10 chilometri tra lo svincolo di Campo Calabro e quello di Reggio Calabria-Santa Caterina. Fatto questo, l'autostrada sarà terminata, perché il resto sarà solo manutenzione e messa in sicurezza. Interventi di restyling, insomma, questi ultimi che sembrerebbe richiederanno almeno un altro anno di duro lavoro. Fanno parte di questi tratti anche quello di Rogliano, nel Cosentino, il famoso tratto del disastro blocco per neve dei mesi scorsi. Si sta valutando inoltre un'interfaccia con il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture per un piano di interventi di adeguamento.